solidarietà tricologica quella è crimi, vedi? quella è pari bambù pari bambù pari bambù ma chi lo sa sei il babbù, mamma e il tuo scio lo so anche io sono proprio io pari bambù spesso lo sai Cristina D'Avena, fai attenzione che arriva lei così è nega in coppia e il cuoio presto svanirà poi dimmi quando vuoi tornare io tu puoi pensalo basterà e subito accadrà ma questa tua magia io crei mia amica mia un anno durerà poi quindi forse svanirà pari bambù eccovi qua pari bambù ma chi lo sa per babbo, mamma e il tuo scio lo so anche io sono proprio io sono proprio io pari bambù pari bambù e spesso lo sai pari bambù eccovi lo tuoi ma un po' che me la in coppia so qua e il tuo io presto pari bambù pari bambù pari bambù ed eccomi qua francesca è la dimostrazione che i cartoni animati sono amatissimi allora vediamo quanto hai totalizzato francesca mamma io sono sconvolta perché è veramente questo è all together now perché hai coinvolto tutti i nostri giudici sono tornati i bambini brava, grazie grazie